Siamo la Banda Bassotti e annunciamo fin da ora che la carovana antifascista della Banda Bassotti sarà in Donbass per le celebrazioni del 9 maggio 2018. Visitieremo città, ospedali, scuole e porteremo a tre orfanotrofi i fondi raccolti con la campagna Dedi Donbass e la lista dei partecipanti. Porteremo medicinali, giochi per bambini e materiale scolastico. Parteciperanno alla carovana europarlamentari e compagni di vari paesi. Ricordiamo che gli autori e i mandanti e i sostenitori del massacro della casa dei sindacati di Odessa del 2 maggio 2014 sono ancora impuniti, come coloro che hanno costruito Aeromaida, il colpo in Ucraina, la conseguente repressione interna e la guerra fraticida in Donbass. Molti di questi criminali siedono al governo di Kiev e al governo di altri paesi. Come antifascisti e antiimperialisti continuiamo a sossedere i popoli che sono costretti a subire questi criminali e i loro crimini. Invitiamo tutti a partecipare e a dare sostegno alla carovana antifascista. Banda Bassotti, gennaio 2018, Perugia, pianeta Terra, non passeranno! Non passeranno!